Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video! Oggi ho deciso di proporvi 5 buone abitudini da tenere quotidianamente per aumentare l'amore verso voi stessi, per fare qualcosa di buono verso voi stessi. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella. In modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirà un mio nuovo video. E se non lo fate già di seguirmi su Instagram, io sono Martina Tazza. Cominciamo! Numero 1. Preparatevi una buona colazione. E no, non intendo bere un caffè al volo o una tazza di latte con le solite pastine. Dedicate un po' di tempo la mattina per fare una colazione decente. Questo non significa che dovete preparare qualcosa e vi dovrete alzare un'ora prima con queste preparazioni lunghissime. Ci sono delle ottime colazioni che possono essere preparate in pochissimo tempo, ma che con un po' di attenzione in più sono più gustose e vi faranno iniziare le giornate con il piede giusto. Ad esempio potreste prepararvi un porridge, e veramente io non credevo ma ci vogliono 5 minuti, con un po' di frutta secca e la colazione è perfetta perché è anche nutriente e quindi non vi tornerà fame dopo due ore. Oppure anche un tè può bastare, però magari potreste aggiungere al tè una fetta di un dolce che avete preparato. Per esempio se decidete di preparare una torta potete farlo la domenica e questa vi durerà per tutta la settimana. Quindi capirete che il tempo che serve è davvero poco, ma il risultato è molto più soddisfacente. Iniziare la mattinata con una buona colazione vi permette di fare un gesto d'amore verso voi stessi e ricordarvi che siete più importanti di tutti quegli impegni che arriveranno dopo e che vi travolgeranno. Numero 2. Leggete libri di crescita personale. Questo genere di libri è adattissimo ad essere letto praticamente in qualsiasi momento perché è una lettura che si può affiancare anche ad un romanzo di fiction, insomma qualsiasi romanzo voi stiate leggendo perché appunto gli argomenti difficilmente coincideranno e non si rischia di fare confusione. Leggere un libro di crescita personale secondo me è indispensabile nella vita di tutti e soprattutto non è obbligatorio leggerne, non so, 3, 4, 5 al mese. Ne basta uno che potete proprio, diciamo, gustare goccia a goccia per tutto il tempo che vi richiede. Potete infatti leggerlo nei ritagli di tempo, anche se secondo me il momento migliore è proprio durante la colazione per iniziare al meglio la giornata e basta davvero anche un paragrafo al giorno. Ma anche questo sarà importante perché vi darà quella pillolina in più per aumentare la vostra fiducia in voi stessi, la vostra felicità, la vostra consapevolezza e così via. Esistono libri di crescita personale praticamente su qualsiasi argomento, che sia mindfulness, come curare le vostre ferite, imparare ad organizzare il vostro tempo, insomma ci sono veramente libri su tutto. Scegliete quello che fa più al caso vostro in questo momento e iniziate a leggerlo. Leggetelo quotidianamente e vedrete quanto questo porterà dei risultati concreti nella vostra vita. Numero 3. Abbracciatevi. Ebbene sì, il terzo consiglio è quello di abbracciare ogni giorno qualcuno. Lo so che questo non è il periodo perfetto per il contatto fisico, però alla fin fine tutti noi abbiamo dei familiari, oppure un fidanzato, un compagno, un marito, qualcuno che abbiamo voglia di abbracciare, abbiamo la possibilità soprattutto di abbracciare. Abbracciare un'altra persona stimola la produzione di endorfine, che aumentano il senso di benessere. Il respiro si sincronizza, i battiti del cuore rallentano, si ha un senso di protezione, si allevia lo stress. Insomma, i benefici degli abbracci sono infiniti. Ma non un abbraccio veloce, ecco, dato in fretta e furia. Un bel abbraccio quotidiano, in cui proprio sentirsi parte del corpo dell'altro, sentirsi al sicuro. Come ho detto, infatti, gli abbracci danno un senso di protezione, ma anche di appagamento. Molto spesso, infatti, si legge, proprio nei libri soprattutto i più romantici, che si trova quasi il proprio posto tra le braccia dell'altro, come se fosse la nostra casa. Ecco, riscopriamo quella sensazione, perché abbracciare qualcuno ogni giorno non può che fare bene, in realtà non solo a voi stessi, ma anche all'altra persona. Numero quattro, ricercate il tempo vuoto. Che cosa intendo con tempo vuoto? Le nostre giornate sono composte da tre tipi di tempo. Il tempo pieno, il tempo vuoto e il tempo perso. Il tempo pieno è quello che dedichiamo alle attività e al lavoro, quindi, diciamo, è quello che occupa la maggior parte delle nostre giornate. Il tempo perso è quello che passiamo praticamente al cellulare. Sono sicura che vi è capitato qualche volta di finire un lavoro e dire ah, adesso mi rilasso, sto un po' al telefono. Ecco, questo in realtà non è rilassamento. Perché? Perché se rispondete a qualche messaggio, a qualche chat, insomma, di gruppo, o alle vostre email, in realtà non state effettivamente non facendo niente, state facendo qualcosa. Inoltre, se passate il tempo sui social, si crea in voi quel senso di urgenza, un'ansia dovuta al fatto che forse vi state perdendo qualcosa. Sto parlando in realtà di una cosa che è stata anche studiata all'interno dei social, perché l'obiettivo dei social è proprio quello di creare in voi questo senso di urgenza, questa sensazione di mancanza di qualcosa. Se ci fate caso, infatti, qualsiasi social, ogni volta che lo aprite, vi propone contenuti nuovi. Questo chiaramente fa in modo che ogni volta che l'occhio cade sul telefono abbiamo voglia di aprirlo, perché sappiamo che c'è sempre qualcosa di nuovo. Quindi, insomma, questo è sicuramente tempo perso. Io qui sto parlando di tempo vuoto. Il tempo vuoto è il tempo che dovete usare per ricaricare le energie. Quindi è un tempo in cui non si fa niente. So che sembra impossibile e effettivamente potrebbe anche essere difficile da fare, ma impegnatevi perché ogni giorno trovare anche quel piccolo lasso di tempo in cui non fare niente vi permetterà di affrontare tutte le attività future in maniera molto più produttiva ed efficace. Quindi, per esempio, potreste meditare, ma se non volete fare questo potreste anche stare fermi e acuire i cinque sensi e provare a elencare nella mente tutto quello che sentite con i vostri sensi. Vi faccio un altro esempio. Se siete in coda alla posta, invece di tirare fuori il cellulare, rimanete lì senza far nulla e prendetevi anche del tempo per annoiarvi, perché la noia in realtà è utilissima per ricaricare le energie. Numero 5. Prendetevi cura del vostro aspetto. E no, non sto parlando di indossare ogni giorno tacchi a spillo o un vestito da sera o la cravatta, per l'appunto. Assolutamente no. Si tratta semplicemente di avere un po' di cura ogni mattina quando ci alziamo e ci vestiamo e ci prepariamo per la nostra giornata. Anche se non dobbiamo fare niente di particolare, io vi consiglio di curare un po' il vostro aspetto anche solo per andare al lavoro. In realtà iniziare la giornata guardandosi allo specchio e piacendosi è un modo ottimo per darsi un po' d'amore, perché obiettivamente quando ci guardiamo allo specchio molto spesso la nostra mente ci invade di critiche. Qualcosa che non ci piace lo troviamo sempre e invece non è questo quello che dovremmo fare, ma dovremmo piacerci. Ecco perché magari potreste curare un po' il modo di vestire quando vi preparate per andare al lavoro, per le donne, magari un filo di trucco. Non è necessario esagerare ed essere sempre impeccabili, però sicuramente dare un po' di attenzione anche al vostro look vi permetterà di, secondo me, di essere di buon umore durante tutto l'arco della giornata. Con me funziona perfettamente. Bene ragazzi, il video finisce qui. Questi sono i miei 5 consigli per portare un po' di benessere nelle vostre giornate e prendervi del tempo da dedicare a voi stessi. Fatemi sapere se deciderete di mettere in atto alcuni dei miei consigli e quali sono i risultati. E come sempre noi ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao! Ciao!